Antonella Fiordelisi eliminata dal GF VIP, Edoardo piange poi scopre che è uno scherzo. Oriana Marzoli è la prima finalista del Grande Fratello VIP, nel corso della puntata trasmessa lunedì 6 marzo. La concorrente ha preso il verdetto in studio insieme ad Antonella Fiordelisi. È stato particolarmente esilarante il momento in cui sono tornate nella casa, dopo aver ricevuto istruzioni da Alfonso Signorini. Solo Oriana è rientrata, assicurando ai vipponi che Antonella fosse stata eliminata. Oriana Marzoli, dopo essere stata scelta dal pubblico come prima finalista del Grande Fratello VIP, si è fatta dare dei consigli da Antonella Fiordelisi su come inscenare l'eliminazione di quest'ultima. Quando è rientrata, ha assicurato, Antonella è stata eliminata per il suo rapporto tossico con Edoardo. Si è messa a piangere, si è buttata per terra, Ginevra l'ha presa davanti a me e si è andata a sedere con tutti gli altri. Poi, è intervenuto Alfonso Signorini che ha retto il gioco a Oriana, credetemi. Antonella l'ha presa molto male, si è messa a piangere. Il conduttore ha chiesto a Fiordelisi se la sentisse di parlare. Mentre fingeva di farle avere un bicchiere d'acqua. In realtà, la geffina non era in studio, ma rispondeva da dietro la porta rossa. Alfonso ti chiedo scusa per come ho reagito, per le urla, non me l'aspettavo. Pensavo fosse per la finale. Però queste cose succedono. Cosa voglio dire a Edoardo? Che sicuramente ci vedremo fuori. Forza amore, dai! Edoardo, in lacrime, non ha avuto la forza di dire niente. Così, ha continuato Antonella, sono contenta perché in questa settimana ci siamo chiariti. Però, io farò il tifo per lui da fuori e lo aspetterò sicuramente. Alfonso Signorini ha proposto a Edoardo Donnamarie di raggiungere lo studio. Per salutare la sua fidanzata. Ma quando è uscito dalla porta rossa se l'è trovata davanti, mortacci vostri. Ha esclamato e si sono abbracciati. Lo scherzo è proseguito con l'ingresso di Antonella e Edoardo in casa. Mentre scattava il frezze. Fiorneli si ha spiegato. Ragazzi eccomi qua, ho fatto uno scherzo a Edoardo. In realtà, io mi sono salvata ma Davide è stato eliminato purtroppo. Abbiamo perso un altro persiano, ma resisteremo. Infine, Alfonso Signorini è intervenuto e ha svelato la verità, Vipponi, La verità è che nessuno è stato eliminato perché Oriana è la prima finalista di questa edizione. E tutti i concorrenti hanno festeggiato. Grazie. 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 Grazie.